C'era anche la senatrice Patrizia Bisinella ieri sera al convegno organizzato a Caorso dalla Lega Nord, dibattito incentrato sul tema dei possibili modelli della futura Europa. Ovvio però è che il discorso con la parlamentare leghista parta dall'attualità e quindi con un giudizio sul neonato governo Renzi. Parte sì con una squadra giovane ma di fatto anche con elementi che rappresentano un po' quei poteri forti che sono sempre stati quelli che non hanno voluto il cambiamento di questo paese che hanno frenato riforme. Il dibattito moderato dalla giornalista di Telelibertà Alessandra Lucchini ruotava intorno al tema delle regioni e sull'Italia che Bisinella ha definito un paese in stallo in un'Europa troppo rigida. Al tavolo dei relatori anche il consigliere regionale Stefano Cavalli e Andrea Mascetti fondatore di Terra Insubre. La mia Europa è quella per esempio della Confederazione Svizzera dove un popolo può esprimersi liberamente rispetto ad una legge decidere di abrogarla, decidere di proporla, cambiare come preferisce tramite un voto popolare. È una Svizzera e quindi un'Europa di nazioni etniche e culturali dove ci sono gente che parla in francese, in romancio, in italiano, in tedesco e vivono tranquillamente anche all'fuori di questa Unione Europea. Io credo che il modello per l'Europa dovrebbe essere proprio quello, cioè quelle delle diverse lingue, delle diverse regioni, delle diverse etnie, un mondo di pluralità.